eeeh un saluto da Darko e... Ciao ragazzi! E benvenuti in questo mini gioco che abbiamo trovato e lo conoscete sicuramente tutti Poly Bridge dove dobbiamo creare dei bellissimi ponti per far passare le macchine, moto e altre robe varie Questo è un gioco che ci ha consigliato Andrea Sardorini quindi vediamo subito un po' di che cosa si tratta Oltretutto ragazzi ricordatevi che se vi piace lasciate un bel like che a 30 like portiamo il seguito Esatto ragazzi quindi non perdiamo tutto il tempo e iniziamo qualche missioncina visto che se ho capito bene funziona a missioni Oh abbiamo qua uno trattino uno otto metri simple bridge un semplice ponte Dove passarci una macchina quindi tac dobbiamo costruire un ponte Oh mio dio ragazzi il Darko l'architetto lavora Tac e tac e tac Adesso dobbiamo fare in modo che non cada Ecco già lì la vedo male Aiuto ragazzi ce la faremo a non farlo cadere Beh Vai con l'architetto Darko dobbiamo testarlo vediamo un po' Allora 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 come si fa a far provare Darko non è un geometro Oh mio dio Cioè è caduto ancora prima che la macchina Ehm Va bene non va bene così No Come che si fanno a togliere in modo più così no E c'è da tutto il ponte va Allora ragazzi questa è la strada allora dobbiamo fare la strada C'è un motivo perché i punti vanno in alto Darko No 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 adesso ti faccio vedere che ho capito il perché Allora adesso scegliamo la legna E dobbiamo fare in modo che Mmm Tra parallelo mi sa di no ma non importa ragazzi No 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 Dai che regge Aspetta Sicurezza Teniamo un po' anche qui Tac tac E vediamo se va Tac Oh ma che regge Ma che regge la caretta Nooo Darko non sei un geometra Che cos'è che non va Darko fidati I ponti c'è un motivo se vanno al centro verso l'alto Secondo me non ha retto quel punto Riproviamo E non mi vuole credere Sì Sì Ah 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 Possiamo andare avanti nel prossimo Allora qui abbiamo uno trattino due Dieci metri Mmm questo è piuttosto Dovono passarci due macchine Oh oh Allora noi possiamo avere l'avventaggio di poter usare la pietra da sotto eh Bene bene allora Tac 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 E tac Quindi adesso Tassiamo di legna Mmm l'architetto d'arco e le sue avventure No non si collega Mmm Oh mio dio Ragazzi Cia ci può fare Noi siamo architetti nati no? Eh Secondo me c'è ancora Io faccio una cosa incrociata Non la fai incrociata No non la fai incrociata Troppo lontano Mmm Proviamo così La vedo grigia Aspetta guarda già che ci sono Facciamo anche una roba tipo questa Girege un po' di più Tac Spero Anzi Un altro po' lontano Tanta legna Tanta legna Deve reggere due macchine ragazzi E E Oh no no C'è è volato giù già prima Allora ragazzi Perché è crollato? Mmm Perché sei nob Allora Rifacciamo il percorso va? Allora sicuramente la strada deve essere dritta No E come sentiamo la clove esperta Vediamo Darko le strade non sono I punti non sono dritti Vanno verso l'alto Non così però Poco Di poco Di poco Eh Così O sempre in dritto Sì fallo ancora un po' più Sempre di poco per volta Eh Lì vai dritto Quando sei Oh C'è un motivo d'arco se sono così i ponti Non è un caso Eh ok Allora adesso però dobbiamo mettere La legna Allora aspetta Lì a questa parte Non si può buttare Ma che vola? Ma che 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 Allora elimina Allora qua Eh no Volevo detto elimina Eh Ehm Volevo riuscire ad essere abbastanza paralleli Così il ponte viene abbastanza dritto A parte che lì non sono riuscito a farlo dritto Però è Non importa Proviamo? A me ci conviene mettere Vado Dovrebbe reggere Oh mio dio Volee va come salta la macchina Te l'ho detto Te l'ho detto Te l'ho detto che il trucco era quello Darko non devi fare la strada dritta Vediamo un ponte da 12 metri con due macchine Una piccola una grande Quindi deve essere anche bello resistente Allora Avremo due possibilità Due pilastri Quindi un po' più in alto Tac Si fallo più in alto Tac Eh no Già prima dovevi andare iniziare a scendere No Darko Vabbè proviamo Proviamo ragazzi E legno per forza Allora noi facciamo così Tac Scendiamo qua Mettiamo uno qua Mettiamolo per ogni pal Perchè No Non mi piace Perchè è andato dritto Ma perchè Mi prende in giro ragazzi il gioco Tac 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 E tac Vabbè questo è un po' giù Non importa Guardate qua ragazzi Che super ponte Bellissimo Cioè voi vi fidereste a passare su un ponte del genere Il ponte di Darko Vai così Tac Guarda 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 eh No qui non si può fare lo stesso lavoro Anzi Noi facciamo quelli più Non ci arriva dall'altra parte Vabbè non importa Ora uniamo il ponte alla terra La vedo grigia eh ragazzi Però Ci arriva Allora vediamo un po' Oh santa c'era Se almeno si appoggia Si appoggia alla pietra Ragazzi siete pronti? Si parte Non guardo io Forse ce la fanno eh Oh Sta andando Sta andando ragazzi Fuzzica Fuzzica Oh mio dio si rotta la punta ma sta andando Sono passati Ce l'abbiamo fatta Adesso non ha vinto niente Vediamo nel prossimo livello Ragazzi voi fino a che livello siete arrivati? Se voi avete giocato a questo gioco Fin dove siete arrivati? Abbiamo un badge di 9000 Qui non so Slanted Bridge Cioè Oh questo è salita Eh 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 non farlo dritto Ricordati sempre L'inclinazione Inclinazione No Darko Sì 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 Cioè in mente è una cosa bella Tac Ragazzi Qui C'è la maestria Nel fare i ponti Non ce la farà mai Non so se neanche si riesce a salire Però vabbè Proviamo ragazzi Vai ce la puoi fare Oh però vabbè Guarda come è resistente Bello resistente nooo Nooo Non ha retto l'ultimo Te l'ho detto che non doveva essere dritto La fine falla che va un po' più su Questa Sì La devo rifare tutto allora ragazzi Ci tocca rifare da tutto No parti da destra Da via qua Sì così Inclini un po' No verso l'alto Darko Non puoi farlo verso l'alto Sì fidati Non troppo Non troppo Eh allora Cosmi dici Sì no sì Vai Vai un po' più giù Ok così Poi Vai dritto adesso Ognuno Ok E poi vai giù Non troppo Non troppo Cerca di farlo sempre sul tondo Non puoi fare i tondi Ok Bah Proviamo Te l'ho detto Me l'hai detto cosa Ah 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 Non va bene Non deve essere così ragazzi Fidatevi del Darko Fidatevi del Darko va Non regge la fine Vedrai che adesso come lo faccio io regge Devi fare più resistente la fine Dritto Scometti che adesso regge? Se non regge adesso Mincavolo eh ragazzi Vai ponte vai Sì No Te l'ho detto che doveva essere almeno incurvato Ok ragazzi Siamo arrivati anche oggi alla fine Perché sto ponte non lo vuole sapere Quindi ragazzi se avete consigli di come superare questo ponte te lo lo scrivete qua sotto E noi vi diciamo che per oggi è tutto Quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto e volete aiutarci a crescere potete condividere questo video Iscrivervi al canale E lasciarci un bel like e un commento qua sotto E potete trovarci sui nostri social network Che sono Facebook e Instagram E potete venire a parlare A scrivere a fare quello che più vi piaccia Nel nostro server di Discord Che anche quello lo trovate qua sotto in descrizione E che dire Da Darko è tutto Ad un prossimo video Ciao ragazzi